Mi chiamo Pupin Corvaia, il mio esperimento si chiama il principio dei basi comunicanti e la capillarità. Allora, qua ci sono due bottiglie con un pezzo di canna, di gomma, e ho usato il pongo come diciamo che l'acqua non esca, come guarnizione. E... adesso verso l'acqua e osserveremo... Fermati, basta, basta, basta. Quindi, come osservate, il pongo non fa proprio tanto da guarnizione, ma l'acqua si dispone allo stesso livello, grazie alla fissione idrostatica.